Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si segnala un chilometro di coda tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso tra Arezzo e Incisareggello in direzione Bologna. Passiamo alla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassegna in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Sulla regionale due casse a causa di lavori si ricorda che è chiuso lo svincolo di Montalcino in entrata e in uscita in direzione Siena. Cantieri di Firenze per lavori di consolidamento al muro di sostegno in via Bolognese all'altezza di Villa Fainali, restringimento di carreggiata con senso unico alternato. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!